A scuola io dico, evolviamo, facciamo sempre le stesse cose, i programmi sono uguali, i programmi di storia sono gli stessi che faceva mia madre, ma è successo un sacco di roba, come si fa a rimanere fermi? Com'è possibile? L'inglese, ancora che facciamo noi, io lo dico perché ci ascolteranno pure fuori col TED, quindi noi tutto quello che in inglese impariamo in Italia lo impariamo sul tavolo, the pennies on the table, the cuties on the table, the cuties on the table, the cuties on... Io la prima volta sono andata a Londra in una stanza, non c'era un tavolo, faccio niente, ragazzi, non so parlare. Io, l'evoluzione non deve essere solo la terminologia, perché probabilmente qualcuno lo sente, qualche professore da domani comincia a fare, the pennies on the table, no, non è...